pio e amedeo non hanno resistito e sul palco del marateale hanno lanciato alcune frecciatine all'ex conduttrice mediaset barbara d'urso in occasione del festival marateale di cui sono stati ospiti il duo comico pugliese pio e amedeo ha approfittato per lanciare alcune frecciatine alla conduttrice mediaset barbara d'urso che come ormai tutti sapranno è stata recentemente fatta fuori dalla conduzione di pomeriggio 5 pio e amedeo hanno quindi ironizzato sul fatto non nascondendo le ostilità tra loro e la stessa barbara d'urso barbara d'urso che per la prima volta da diversi anni a settembre non tornerà a mediaset è stata oggetto dell'ironia del duo comico pugliese pio e amedeo che sul palco del marateale in basilicata si sono lasciati andare a qualche battuta sulla mancata presenza della nota conduttrice nei palinsesti mediaset della prossima stagione televisiva quando ci hanno detto venite al marateale abbiamo visto grandissimi nomi giancarlo giannini carlo verdone poi abbiamo visto che stava anche barbara d'urso vabbè chiamano cani e porci andiamo pure noi hanno dichiarato i due comici tra le risate del pubblico presente quindi amedeo ha continuato affermando quando abbiamo visto barbara d'urso pensavamo di non meritarcelo tanto con lei ci vediamo a set a no entrambi non hanno nascosto il fatto di non essere particolarmente amici della conduttrice partenopea non ci vogliamo bene soltanto che noi lo diciamo non come quelli dello spettacolo ma quando pier silvio ha detto non ci sarà barbara ma quanto è stato bello ha aggiunto ancora amedeo che non è riuscito a celare la sua felicità per la cacciata della conduttrice dalle reti del biscione